Dal 2003 la mercantia è certificata ISO 9000 in Vision 2000. I nostri processi interni si svolgono secondo criteri di qualità certificati. Assicuriamo al cliente, all'architetto, al progettista e ai nostri fornitori e collaboratori il miglior servizio. Il progetto viene realizzato secondo i più stretti criteri di qualità e ponendo la massima attenzione alle necessità e alle specifiche del cliente. La commessa viene eseguita con le risorse necessarie e con cura dal momento dell'ordine fino alla conclusione dei lavori. La mercanti gestisce tutte le maestranze in cantiere con particolare attenzione al risultato, alla sicurezza, tenendo sempre a mente il rispetto dei tempi e delle scadenze. L'ascolto del cliente, il servizio al cliente e il miglioramento continuo sono il nostro obiettivo.